Ed eccola qui la nuova Hyundai Santa Fe 2024, una vettura quasi estrema per quanto riguarda il design e per spiegarvela non potevo che intervistare Nicola Danza. Ciao Nicola. Ciao. Exterior Design Manager di Hyundai. Allora, grandissima eccellenza italiana in casa coreana, quindi diciamo che è sicuramente qualcosa di molto positivo, anche se c'è da dire che qui in italiano non c'è moltissimo in questo design, ma c'è qualcosa di sicuramente contemporaneo, mettiamola così. Esatto. Quando abbiamo iniziato questo progetto ci siamo chiesti cosa possiamo fare con la prossima generazione di Santa Fe. Certo. Dopo quattro generazioni, fare la quinta, fare qualcosa di diverso, abbiamo pensato perché non facciamo qualcosa di estremo e che un estremo intendevamo, perché ovviamente abbiamo fatto tre anni fa, qualcosa che fosse più provocante, se vuoi, quasi anti-design, se vogliamo. Certo. Abbiamo rimosso ogni fronzolo, ogni cosa che non serviva, ogni cosa che non ci aiutava a nascondere i volumi. Questa vettura è un po' più grande di quella precedente, il passo è più lungo. Sembra molto più grande di quella precedente in realtà. Esatto. E questo è un effetto voluto. È un effetto voluto perché piattendo le piante del frontale e del posteriore rendi le vetture più larghe. Ovviamente portando questo punto più avanti, leggi tutto il volume in ogni prospettiva. E questo ci ha aiutato a farla sembrare più massiccia, ma anche più curata, se vogliamo, perché fare una macchina semplice è molto più difficile che fare una macchina complicata, perché leggi di più i volumi. Infatti qui si nota l'estrema semplicità, sembra quasi un Lego, tra virgolette, da un punto di vista, così se ne vogliamo semplificarlo, ma realmente c'è veramente tanto design per mettere assieme una vettura così semplice. Esatto, in questa vista vedi bene la sezione di pianta, ad esempio, non è dritta, non è piatta. E questo è un po' l'effetto che volevamo, che dovrebbe sembrare boxy, ma curata, perché comunque è una macchina costosa, anche le sezioni raffiancate. È stato tutto curato al massimo proprio per renderla premium, ma alla fine comunque utilizzabile. Allora, non è un fuoristrada, lo diciamo subito, è un SUV, rimane uno sport utility veicolo. La volontà chiaramente era quella di andare incontro a tutti coloro i quali, mettiamola così, tutti coloro i quali vanno a fare l'aperitivo a Milano con Wrangler, per intenderci, ma qui però hanno il comfort di una macchina normale, no? Quindi puoi avere l'estetica di una macchina figa, di un vero fuoristrada, e in realtà poi qualcosa in fuoristrada lo fa anche, perché comunque l'altezza da terra ce l'ha, la trazione integrale ce l'ha, ha tutta una serie di caratteristiche che sono anche figlie della tradizione di Santa Fe. Il valso corto anteriore. Certo, perché in realtà Santa Fe, soprattutto la prima generazione, era quasi un fuoristrada. Era un fuoristrada. Di fatto era un fuoristrada, per cui realmente questa è una macchina che è evoluta, quindi utilizza la stessa piattaforma di quella precedente, ma però porta con sé codici stilistici che non sono certamente quelli del modello precedente, secondo me piacerà un botto anche in America, sta macchina, sicuramente, ma sono certo che anche in Italia comunque strizzerà l'occhio a tutti coloro i quali vogliono qualcosa di un pochino più modaiolo, che si faccia distinguere, e lo farà anche attraverso questi occhioni, così con questa firma ad H, questa firma luminosa ad H, avete i fari matrix e full led, la parte abbagliante e in abbagliante chiaramente separata. Esatto, ovviamente la grafica H ci aiuta a nascondere anche le funzioni. Certo. Quindi tu vedi la H, ma in realtà tutte le funzioni sono nascoste, insieme poi a tutto il resto dei dettagli. Infatti qua è bellissima anche la calandra, come l'ha integrata bene, proprio slickie anche da un punto di vista di design, anche se poi tendono ad emergere questi elementi, e in più non è semplice, non è un... proprio per sottolineare il fatto che questa macchina di fatto è un SUV, quindi è una macchina moderna, ci sono degli elementi come queste tendine, che in realtà salgono e scendono sulla base delle necessità di raffreddamento dei motori, dei motori, poi vi spiego anche perché dico dei, che appunto migliorano l'aerodinamica nel caso in cui appunto sono chiuse, ma ovviamente vanno a raffreddare il motore assieme alla parte sotto che rimane sempre aperta, proprio in funzione ovviamente del raffreddamento dei quattro cilindri, che è sempre 1.6, è sempre un motore turbo compresso, è di ultima generazione, però è disponibile con due varianti di abbinamento al motore elettrico, una è una plug-in hybrid, poi scopriremo le caratteristiche di potenza, scopriremo le caratteristiche di batteria, di autonomia solamente in elettrico, e poi invece l'altra è una full hybrid, due tipologie di motorizzazioni che realmente esistevano già nella precedente Santa Fe, che ovviamente sono state evolute, anche se poi si vogliono ottenere, qua Hyundai non ce l'ha ancora detto quanti cavalli avrà, però vi posso dire che quella precedente aveva 230 cavalli, l'hybrid 260 è qualcosa, quella plug-in, quindi posso immaginare che quantomeno da lì si riparta, anche per il disegno tecnico di questa vettura, che comunque la sua bella trazione integrale meccanica continua ad averla. Detto questo, anche qui, qui c'è il punto forte, diciamo, anche davanti, però anche qui, questo secondo me è proprio il punto di rottura, nel senso che il faro basso può piacere o non piacere, però indubbiamente è qualcosa di molto originale. Qualcosa di originale anche perché, al di là delle praticità che vedremo dopo, però il posizionamento dei fari, noi come designer vogliamo fare sempre degli oggetti che sono riconoscibili da lontano, tramite grafiche, con i volumi, e l'alternativa era mettere i verticali, mettere i verticali ti confondi con la massa, è un po' banale, questa è una posizione che è funzionale perché non è troppo bassa, è più bassa di quello che ti aspetti, ma in realtà, essendo un SUV, sono più alti, quindi in realtà sono nella posizione giusta. Di nuovo grafica ad H, ovviamente, e soprattutto questa disposizione ci permette di avere l'apertura a larghezza totale. Avendo la fanalleria in quella zona lì, ovviamente tutte le flange, tutta la struttura è molto più compatta e ti permette un accesso al portellone, al bagagliaio, molto più, da un lato, generosa per tutta la larghezza, ma anche più usabile. Rimano a sette posti, di fatto, quindi la seconda fila di sedile frazionabile è 60-40, la terza fila è 50-50, ovviamente la linea, la soglia di carico è allineata con il piano d'appoggio e questa è sicuramente una gran cosa. In più mi dicevi che i coreani, cos'è che fanno? In coreano questa zona la chiamano chabak, praticamente è una zona vivibile. Negli ultimi anni è diventato molto di moda usare le vetture per fare camping, per viverle, non solo da A a B o per andare al lavoro piuttosto che altro, ma anche nel weekend usarle come campeggio, come vettura per dormirci dentro. Infatti, basando anche i sedili della fila centrale, hai tutto il spazio necessario per dormirci, più ovviamente una linea di accessori che puoi collegare e usare. Si, puoi andare a migliorare la vettura e soprattutto anche a sfruttare alcuni elementi molto interessanti come ad esempio la presa di corrente direttamente in vettura, l'aria condizionata direttamente anche nella parte posteriore con la possibilità di regolare la temperatura, la tua bella porticina USB-C e in più anche ovviamente i sedili della seconda fila che possono essere abbattuti direttamente dalla zona posteriore. La trovo molto originale sicuramente anche da questo punto di vista, il fatto che abbia sette posti, in realtà poi sono sempre 5 più 2 queste macchine, però comunque è certamente qualcosa che può fare comodo nel contesto di una vettura che cresce di passo perché siamo a 2,86 metri e abbiamo una lunghezza di 4,81 metri, per cui è molto generosa e soprattutto qui dietro è proprio quadrata. È veramente molto, sei stato molto coraggioso posso dirti? Grazie perché era quello che volevamo proprio dall'inizio, essere più coraggiosi e dire creiamoci la nostra immagine. Certo, sì sì, rimarrà comunque soprattutto diciamo dalle nostre parti una macchina abbastanza di nicchia, però è coraggiosa, questo bisogna proprio dargli a neato e mi piace anche come avete fatto correre le superfici vetrate cercando di non dare soluzioni di continuità, quindi anche da questo punto di vista avete fatto un ottimo lavoro, però ovviamente la parte laterale è un po' americaneggiante. Certo, in America qua c'erano le luci d'ingombro. Sì, ci sono le luci d'ingombro, quindi ne avete approfittato per tirarla dritta e in più ovviamente è bellissimo anche il passaruota, guardate come è bello squadrato e va ad essere sottolineato anche da questa moda natura che è nero opaco e chiaramente gira tutto attorno alla vettura. Un po' la zona protettiva, no? Regalando così in seconda lettura una visione diciamo un pochino più fuoristradistica rispetto a quello che potrebbe essere senza questi elementi, ribadisco non è un fuoristrada col Defender fate più quello vecchio, fate più cose, quello che volete però diciamo che qua hanno cercato bisogna sempre mettere le mani avanti perché se no ti va di salire di là che vediamo un attimino gli interni, vi faccio vedere come sono fatti, i materiali sono sempre di buona qualità, devo dire che i top di gamma in casa Hyundai comunque sono sempre molto ben fatti, bella la finitura con questo similegno almeno per quanto riguarda la parte estetica e in più la parte bassa, certo c'è un po' di croccantezza, la plastica rimane sempre croccantina però il colore devo dire è molto ben intonato e soprattutto mi piace molto come hanno fatto girare qui sotto, la vedete la luce ed ambiente che poi ritroviamo replicata anche con quasi motivi di stile all'interno con questa H che viene quasi replicata dall'esterno. l'interno è quello di una macchina molto generosa per quanto riguarda gli spazi quindi abbiamo un tunnel centrale indubbiamente importante per quanto riguarda l'emissione, questo è volutissimo, non è solo voluto ma è volutissimo lo utilizzi sotto anche ah vedi che c'hai un po' di spazio anche qua sotto vediamo se riesco anche ad illuminare così vedete un pochino meglio c'è un cassettino le borse cellulari la borsa della signora, quella un pochino più piccolina o comunque anche i vostri, diciamo, le vostre sottatasche è bello il fatto di avere il doppio sistema di ricarica wireless questa cosa mi ha molto colpito oggi perché avete un sistema che consente di andare a sfruttare la massima potenza o la interconnessione con il sistema multimediale poi ovviamente anche qui ti dice se la ricarica è in funzione parte della climatizzazione separata quindi da questo punto di vista avete sempre i soliti tasti fisici che comunque possono essere anche sicuramente comodi i vari driving mode adesso abbiamo pure acceso il motore ma lo spegniamo perché siamo al chiuso forse è un po' più diciamo accettato soprattutto da visto che siamo anche in azienda non è il massimo detto questo però come vedete qui davanti abbiamo un doppio schermo da 12 pollici circa a livello di dimensione integrato uno all'altro con una struttura curva boomerang la vedete come è disegnata la parte sinistra integra un altoparlante quindi c'è una parte del sistema multimediale che viene integrata qui dentro oltre a quello della porta e in più nella parte destra troviamo l'ultimo sistema multimediale di hyundai quindi l'ultima evoluzione è proprio prendendo ride auto ci sono ma in realtà è pieno di app all'interno che permettono direttamente al sistema di interfacciarsi con quello che è il mondo esterno a livello di notizie a livello di calendario del vostro calendario a livello di tutte quelle modalità che poi vi servono anche realmente per andare a vivere la vita quotidiana in più ovviamente sistema di navigazione che diciamo dialoga anche con la parte elettrica che è molto evoluta in tutte e due le versioni ma ovviamente la plug in hybrid integra anche alcune situazioni tipo anche il controllo della temperatura da remoto e tutte queste cose qua che sono tipiche realmente delle macchine elettriche bello il volante questo mi fa un po' defender devo essere sincero un po' squadratone così c'è un po' di ispirazione però è figo da un punto di vista estetico ci sta e richiama anche quello che è il mondo esterno quindi ci sta da un punto di vista stilistico in più vedo che ti piaceva questo tastino Nicola perché c'è qualcosa che ti piace da qua dentro c'è un cassettino con questo elemento che va ad aprirsi con la sua bella pelle anche qui molto ben rifinita anche la parte alta è rivestita di pelle e poi invece qui ha anche un altro cassettino qui sotto bello anche quello e poi anche qui lo vedete le bocchette dell'aria sono integrate all'interno di questa linea che è tutto disegnato per sottolineare quello che è la lunghezza sempre con la larghezza soprattutto bello veramente molto bello non so se hai visto qua che hai accesso sia dal davanti ma anche dal vertito questo è molto carino devo dire un piccolo dettaglio che però sai dell'uso con i ragazzi con i bambini in macchina può fare la differenza lo faccio vedere tra l'altro è un cassettino anche molto profondo se ti va di aprirlo di nuovo dall'altra parte così possiamo vedere puoi spostarlo dove ti serve come si muove la tendina vedi un po' eccolo qua guarda è molto carino molto originale sicuramente molto comodo soprattutto se dovete prendere cose da dietro è intelligente il fatto che questo elemento abbia doppia cerniera ovviamente i sedili sono ventilati sono riscaldati il volante è riscaldato c'è di tutto per quanto riguarda appunto le modalità anche fuoristradistiche con l'illuscent control le telecamere che vanno a girare tutto attorno alla vettura con tra l'altro la visione dall'alto regolabile eccola qui la vedete possiamo andare a scegliere quale visione utilizzare possiamo girare attorno alla vettura tra l'altro vabbè chiaramente dello stesso colore dell'esterno però molto bella anche da un punto di vista così di grafica fa sorridere perché è un design talmente originale che sembra quasi impossibile che se una macchina realmente di serie è questa e non è una concept car andiamo a vedere anche un secondo come si sta dietro mi interessa molto perché comunque questa sarà una macchina che verrà acquistata diciamo anche da famiglie mettiamola così quindi abbiamo la nostra tendina privacy fondamentalmente abbiamo il doppio porta latine questo se non glielo metti agli americani vanno pazzi abbiamo la possibilità di riscaldare il sedile qui ci sono dei ganci molto comodi sicuramente per per mettere le vostre non so le vostre camicie le vostre sacchetti quello che volete e in più vorreste tolinearvi guardate un po' quanto spazio ho per le mie gambe io sono alto 1,90 m non è che sono piccolino guardate un po' ne avanzo un bel po' di spazio tenete conto che il sedile qui davanti è regolato sulla mia posizione un'altra bocchettina dell'aria qui davanti hanno scelto di utilizzare una microfibra da sala alcantara posso immaginare per quanto riguarda l'interno e anche qui dietro come vedete c'è il modo di accedere abbattendo chiaramente gli schienali alla fila posteriore che come vi dicevano 5 più 2 ma se avete due cuginetti o due amiche da portare in più da portare a spazio è una cosa che sicuramente può fare comodo mi piace sempre tantissimo tra l'altro il fatto che integrate la porticina USB-C al sedile perché è molto comodo non ci inciampi dentro coi piedi ed è molto più intelligente proprio perché ce l'hai direttamente dall'alto quindi non hai il cavo troppo corto tutte strabe qua che comunque possono anche essere fastidiose nella vita quotidiana quindi c'è uno studio realmente diciamo a 360 gradi anche dell'abitabilità Hyundai sta crescendo esponenzialmente dal punto di vista di stile anche grazie ai designer italiani dal punto di vista meccanico perché hanno preso il meglio possibile immaginabile dell'ingegneria dalle case tedesche in questi ultimi vent'anni hanno fatto un lavoro straordinario in più passo dopo passo ovviamente stanno crescendo anche loro proprio perché stanno investendo tanto non solo nel design non solo nei terri ma anche nel ferro proprio nella costruzione della meccanica e le macchine sono decisamente migliori rispetto al passato mi stavo indicato di dirvi tra l'altro che lo specchietto ha la telecamera se non vedo male sì vabbè è uno specchietto attivo e quindi permette anche di avere la visione della parte posteriore digitale non solo fatta a de specchio detto questo scendiamo mi riprendo Nicola vieni Nicola che andiamo qui dietro chiudiamo il video è molto figa molto originale complimenti grazie devo dire poi ragazzi può piacere o non piacere magari sotto mi dite no a me non piace dietro io non l'avrei mai fatta così però posso dirvi visto dal vivo è veramente molto figa e sicuramente dà anche l'espressione di quello che è il coraggio di questa azienda e anche il coraggio di Nicola di aver messo assieme una vettura sicuramente molto originale grazie grazie a te complimenti per tutto quello che stai facendo anche per portare un pizzico di tale che fa sempre molto molto piacere con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto viva la passione per l'auto full gas sempre poi i prezzi della vettura vi dico più avanti perché non me ne hanno detto neanche a me e nemmeno le potenze però più o meno qualcosa vi ho detto ciao ciao